Ciao a tutti e bentornati qui con la Nordfrisice Mars Siamo in viaggio per cercare un punto vendita per la mia legna Non so chi di voi ha visto la puntata precedente Abbiamo avuto problemi con la legna non riesco a venderla In queste condizioni a pallet alla segheria dove normalmente si vende la legna non la prende Adesso sto tornando al Baumarkt vediamo se prende la legna al Baumarkt Nel frattempo continuiamo a vendere l'insilato Tutto l'insilato che abbiamo in biogas lo vendiamo Così facciamo dei soldi Abbiamo comprato il secondo peschereggio un paio di puntate fa Abbiamo portato anche del diesel A proposito devo metterlo in funzione Vediamo un po' l'ho messo in funzione E' arrivata perché doveva arrivare Doveva arrivare l'elettricità Questo cos'è finito? Vabbè spegni Sì Volevo venderle tutta la legna perché mi dava un casino di soldi Ma a sto punto non me la dà Non riesco a venderla lì Dove è sto peschereggio? Qua peschereggio Via Dovremmo Cosa manca? L'elettricità che dovrebbe arrivare Adesso alle 4 Ok Ma se non lo accendiamo non lo prendo Vuol dire che dobbiamo lasciarlo acceso Allora proviamo qui al Baumarkt Mi dava 2 milioni e 6 circa 2 milioni e mezzo Speriamo che questa quota la manteniamo Perché è un peccato Perché altrimenti la butto dentro alla segheria E la trasformiamo Che devo fare? Eh oh Io pensavo che riuscivamo a venderla anche così Invece no Oh oh Sì 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 Legna non accettata Ma che palle Sta legna qua secondo me non la prende da nessuna parte Peccato 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 Ma non so dove venderla Proviamo Proviamo a Lidl Vediamo un po' Se c'è un qualche bug da qualche parte Dove riusciamo a venderla sta legna qui Ma mi sa che Alla fine va buttata dentro la segheria Allora qua c'è l'Edeca Proviamo l'Edeca Spostatevi un pelo Grazie Qua no Perché altrimenti la prenderebbe Non ce la faccio uscire da qui No perché ci sono i cosi Allora usciamo di nuovo qua Proviamo a Lidl L'ultima prova che faccio è Lidl E poi possiamo andare a provare Là sotto Al coso Quello Dove si vende anche la paglia Quella roba lì Ottimamente portiamo in segheria Divido un po' a destra Un po' a sinistra E poi Ah Venderò Quello che c'è E io che ero contento di back up 2 milioni e passa Fanculandia No Proviamo lì I frutteti Ma a quanto pare Sta cosa qua Non va a buon fine Che poi non ho capito Perché Il trigger lì Della ligname Così In quel modo lo prende In questo modo no L'ultimo punto Dove possiamo provare Quello lì Cioè la legna Shfusa la prende Così no Che duballe E' vero che inizialmente L'avevo pensata proprio Per portarla in segheria Però Se mi davano 2 milioni e 6 Faceva mica schifo Ormai Solo perché La forma è diversa Invece deve essere A tronchi intero E a pallet Non li vuole Brutto Stronzo Stronfu Allora proviamo qui Altrimenti si va In segheria Ah La legna Non la prende Da nessuna parte Peccato Segewerk Ma intanto Non la prende Che palli Ah sì Cioè mi paga più la legna Che è la trasformazione Di sta cosa qua Ah sì Mi ripaga 1 e 8 Ok Quello che mi paga bene Sono le cassette Di legno Allora I pallet vuoti Me li paga 1.200 Questi me li paga 1.500 Se va bene 1.500 Idem Cartone Non c'entra Niente Carta Nemmeno Certo Per fare il pellet Ho bisogno Del cippato Allora I barili Me li paga bene 3.400 Cassette di legno 2.8 Alveare 3.000 Qualcosa Ma aspetta Qua Prende Prende anche La legna O prende Solo Discussivamente Gli assi Gli altra fine Li posso scaricare Anche un po' Di sta roba qua Dove cacchio è Allora In una segheria Ne abbiamo 198 Nell'altra Ne abbiamo 139 Assi Vuoi solo Assi Non abbiamo capito Vabbè Sapete che vi dico Facciamo 500.000 Da un alato E 450 450 450 E Come si è messi La fine Ciao ciao Che devo fare Pensavo di beccare 2.600 Invece L'ho beccata In te Chiappe Che l'ho beccata In te Chiappe Per fortuna Per fortuna Che almeno L'insilato Lo stiamo vendendo bene 2.600 Che viaggiano Guardate un po' Che sono belli 2.600 Fanculandia Devo trovarli Dall'altra parte Per posizionare i frutteti Perché voglio posizionarli Entro St'inverno Così che Nel periodo Nel periodo In cui Io vado a Lavorare I miei campi Loro producono Per fortuna Loro Egli Egli adesso come faccio a scaricarne un paio qua un paio lì allora facciamo una cosa che li scarico li scarico tutti per terra ne carico più o meno la metà quanti sono? precisi allora questi li scarichiamo qui che devo fare? ci è niente da fa? così faccio un giro nel frattempo vado a prendere e consegnare anche agli altri poi diamo un'occhiata di nuovo come ho messo il coso con l'insilato ok? 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 beh altri 32 e mezzo si 37.000 dai oh era qua l'entrata iiii frena 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 sono tutti fermi secondo me lì al biogas è successo un casino allora andiamo a vedere infatti non caricano più o 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 e dai carico il primo carico il secondo ok questo dovrebbe funzionare adesso qua ok andiamo a vedere l'altro così mi mettiamo anche dentro il trigger cacchio che presa per il culo questa cosa qua e io avevo pensato che comunque beccavo i soldi manneggia ci penso ancora lorari 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 ok oh che devo fare raga pensavo di beccare i soldi invece l'ho già beccato là proprio lì lì proprio in quel post di Gino ok l'ultimo bel pienotto anche lui nel frattempo per caso non è che è variato il prezzo che l'insilato da qualche parte me lo dà di più vediamo qua insilatus dove sei insilatus allora vediamo un po' 2,8 no è quello che me lo paga di più cioè 2,5,8 vabbè ok eh niente quante abbiamo? abbiamo 1,2 abbiamo bisogno di soldi 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 altra roba da vendere cosa c'è? fammi vedere va mannaggia quei 2 milioni mi sono rimasti proprio dubal peccato 2,5 milioni va cagare ah dobbiamo aspettare che i prezzi salgono ragazzi perché abbiamo dei gran soldi 3,66 di tipo preinsilato cibo per i suini non lo vendo a proposito cibo per i suini devo andare a pezzare un'altra stalla questo non sarebbe male se questo aumentano i pallet OBS OSB 700 multistrato un milione un milione e cento si aumenta ancora di più e i pallet no i pallet vuoti non si vendono un po' di carta su altri 800 eh se i prezzi cambiano qui non sarebbe male dai cioè adesso abbiamo 24 mila 24 milioni però vendere della roba guardate quanto soldi perdi qui cos'è? carne di pecora 876 ehi una casina qualche altra cosa qua sopra che io non cippato no questo è l'insilato ancora ancora un milione e mezzo becco ah mi becco i soldi per andare a mettere ho la produzione ho i i campi perché i campi comunque campi che production frutteti allora lasciamo perdere quello delle olive che ce l'ho sono 450 mila cominciamo con 450 questo mettiamo sì allora 500 questo 450 sono milione milione e due è un milione e due sono due milioni e quattro ci vogliono dos miliones e quattros io direi però che facciamo una cosa che posso posizionarmi già fragole e lamponi così che le mie produzioni le mie le mie serre li metto a fare qualcos'altro così che posso vendere qualcos'altro e quelli faccio fragole e lamponi poi nel frattempo gli porto un po' di materiale registro i percorsi che non è male dai così nel frattempo loro continuano a vendere magari domani se i prezzi cambiano vado a comprare anche la produzione perché volevo comprare anche il campo 45 ma ci vuole un milione e mezzo un milione e qualche quanto costa un milione e mezzo anche questo altrimenti invece di comprare ma la produzione mi piace perché ho tutto per la produzione mi dà anche il booster 500 un milione e mezzo questi due ma che cavolo sapete che vi dico andiamo a prenderci due frutteti olive ci sono a fianco cosa ci metto allora ops cos'è lì ah no soldi allora aspetta cosa avevamo detto che ci metto a fianco qui ci mettiamo le fragole lo sai qua construction allora production frutteti favole allora favola 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 a prima botta che culo allora le favole me le metto qui ah avevo detto che i lamponi ve li volevo mettere qua dietro per il semplice motivo che vedi una cosa che non mi piace di farming simulator è questo perché se si potesse fare no allora magari io piazzo la roba poi dico questo attivati questo attivati questo non attivati adesso in questo momento io avrei tutto predisposto potrei andare a attivare quelli che voglio e lascia stare quelli che non vogliono cioè alla fine facile ma le serra quanto costano 250 ciascuno ne dovrei comprare 6 sono anche un milione qui i milioni viaggiano alla grande ragazzi i milioni viaggiano alla grande ah perché qua dovrei metterci avevo pensato che ci mettevo dove l'uva qui l'uva coso 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 aspetta sarebbero poi uguale come distanza come grandezza problema è che se io dopo voglio me ne servono due come faccio l'ho presa in quel posto non mi piace sta cosa qua vabbè intanto fragole l'abbiamo piazzato fragole l'abbiamo piazzato dove vado troppo troppo giù allora facciamo una cosa fragole piazzato l'uva mi servirebbe l'uva è solo naturalmente da vendere i lamponi mi servirebbero per invece fare le cose ah vuoi un milione e mezzo dei gram aspetta ma io dei prestiti ne posso fare take loan ma ho presti un milione un milione periodo dieci anni facciamo dieci anni facciamo dieci anni che nel momento in cui ce l'ho lo cancello subito se mi dà i 7 milioni cancello quello aspetta 1,2,3 1,2,3 no lui massimo mi dà circa 7 milioni che significa non me ne faccio niente tanto vale che ne prendo un milione 1,2,3 prendo un milione mi piazzo tutti i cosi take loan take loan ok così mi piazzo tutti i frutteti gli do il carico da magnà e siamo a posto allora piazziamo tutti i frutteti piazziamoli i frutteti uva devo mettermi in linea sì sì ok 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 allora avevamo detto in linea con il bordo esterno questo e questo proprio sulla linea ok perfetto piazzati tutti vedete che alla fine qua vediamo se si vede meglio così dovrebbe dov'è qua vola adesso sono tutti in linea sì adesso sono tutti in linea perché mi sono orientato alla linea che ho fatto io con con auto con auto drive siamo adesso ve la faccio vedere da qui mi so mi tocca poi solo andarla a collegare e a riempire a riempire e dargli tutto quello che gli serve vedete che linea centrale auto drive dappertutto sì poi oh il millimetro non è che ci cambia chissà che cosa no qua non c'è la pedana però ho preso qua vedete ci siamo perfetto allora i fruttetti sono piazzati siamo tornati 163.000 ma abbiamo ancora del eh dov'è dell'insilato da vendere qua dobbiamo spostare di nuovo i nastri perché sicuramente non prendono più questo sì il problema è questo quanto abbiamo ancora qua un milione e mezzo ancora un milione e mezzo di insilato che possiamo benissimo vendere vediamo ancora quanto in soldi allora un milione e mezzo di insilato ci porta ancora un milione e quattro sì è vero che ne abbiamo un po' ehm no cos'è sta cosa qua c'entra mica niente ehm qui show location ne abbiamo 800.000 nel fermenter abbiamo una balla vabbè la balla quello che abbiamo al biogas sud che adesso andiamo a vendere anche quella questo milione e mezzo lo vendiamo questo me lo tengo perché non si sa mai comunque più o meno un altro milioncino dovremmo prenderlo poi siamo a posto adesso mi tocca solo andare a rifornire i miei fruttetti così che durante la notte e durante il periodo invernale producono e noi facciamo soldi 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 va pure ragazzi la puntata che chiudiamo qua noi ci vediamo alla prossima sempre con la notte fatemi sapere cosa ne pensate dei fruttetti in quella posizione lì ciao